Costretti a vivere con il portone d'ingresso perennemente aperto a causa del citofono non funzionante e con tutte le conseguenze del caso. Visite notturne di estranei che si divertono a suonare i campanelli degli appartamenti, ritrovamenti al pian terreno, di deiezioni abbandonate sul pavimento e il naturale disagio di non riuscire a controllare chi si introduce nell'immobile. Siamo al civico C2H al quartiere Sant'Anna, la palazzina appartenente ad Arca Puglia e di recente costruzione, eppure, questa è la lamentela dei condomini, già presente i primi problemi derivanti dalla scarsa manutenzione. Sono case nuove, spiegano, e vogliamo mantenerle nel migliore dei modi ma nessuno d'Arca ci risponde. E quello del citofono non è certo l'unico problema. Infiltrazioni d'acqua in alcuni appartamenti al pian terreno rovinano soffitti e i muri esterni del palazzo. Le cassette con i contatori sono state rimesse a posto a spese delle famiglie presenti e il piccolo giardino a ridosso del portone è completamente abbandonato. Con tutte le peche, i mail che hanno avuto, ignorano, ignorano per il via del videocitofono, perdite negli appartamenti, porte di appartamenti rotte, scusate per l'emozione, però a volte non voglio arrivare a questo, però ci devono dare una mano. Troviamo cose, feci, urine, vengono a bussarci alle porte. Entra di tutto e di più, nonostante di tutto e di più tra bambini, persone eccetera eccetera, troviamo anche feci e urine, che è una cosa che purtroppo non possiamo più resistere.